Novena alla Madonna dell'albero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, trizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Madre Celeste, che nel tuo giorno attraverso un miracolo annunciato, Madonna dell'albero sei diventata. Un grande albero a Roma in un punto preciso annunciavi che cadeva. E quando questo accadeva, una tua statua lì volevi, affinché conversioni e guarigioni arrivassero ancora nel mondo, in Italia e in questa regione. C'è bisogno della tua intercessione. E attraverso le preghiere che tu, che sei la Vergine Immacolata Concezione, ogni giorno ci chiedi, noi accorriamo a te, Madre Celeste, perché attraverso te ogni cosa di luce si riveste. Madonnina dell'albero, vogliamo imparare a pregare come tu ci insegni e ci dici di fare. Pregate credendo e non solo sperando, perché per ogni cuore che confida in Dio, lì accanto ci sarò anch'io. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crucifisso, morì e fu sepolto, discesi agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Madre Celeste, ti chiedo per tutto l'amore che tu ci hai donato, anche attraverso questo miracolo annunciato. Concedici la vera conversione e la pace per tutti noi che siamo figli tuoi. Nel nome di Gesù, fallo per noi e nelle tue mani la nostra vita mettiamo. Attraverso la tua intercessione, per il bene del mondo, ti chiediamo la grazia della conversione, della purificazione, della guarigione, della gestazione, della salvazione. Ed io, che sono dinanzi a te, mi prostro e chiedo di concedermi la grazia di... Madonna dell'albero, spargi anche per me che sono un povero peccatore. Petali di rose sul mio cammino, perché i tuoi piedi santi io voglio baciare, inginocchiato dinanzi a te che sei la Santa Madre. Così, per ogni passo che io farò, i tuoi insegnamenti seguirò. Ripulisci la mia anima da ogni peccato, perché un giorno io possa diventare santo attraverso il tuo cuore immacolato. Concedimi di vivere, ma sol come vuoi tu, per arrivare un giorno da tuo figlio, nostro Signore Gesù. Madonna dell'albero, prega per me. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male nome. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, ogni cosa di te tu ci hai donato, aiutaci a comprenderne il significato, aiutaci e lava ogni nostro peccato, perché solo attraverso te noi ci salveremo, solo attraverso te noi risaliremo, per ricevere, se degni delle tue promesse, la nostra ricompensa, la vita eterna. Amen. Grazie, Madre mia, per ciò che chiederai per me a Dio. Grazie, Madre Celeste, per tuo Figlio che ci hai donato, che risorgendo dai morti è tornato, per farci comprendere che si rinasce con Dio se senza peccato, per darci forza, coraggio e insegnare a noi l'obbedienza, perché senza quella non vi è ricompensa. Madonna dell'albero, Madre Celeste, Madre Santissima, Immacolata Madre, prega per noi che ricorriamo a te. Tu, che sei la Madre Castissima del nostro Re. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.